Tra sanità e sport, tra Green Pass e la Vittoria Azzurra e la Mania Grece World ha vissuto a Castellaneta l'ennesima serata di gala sulla Sagrato della Chiesa dei Santi Francesco e Chiara, tra gli ospiti d'onore della Kermesse condotta da Fabio Salvatore Nuzia de Girolamo e introdotta dal sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, anche il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa e il presidente della Federcalcio Gabriele Grevina, castellanetano di nascita, reduce dal successo ottenuto con l'Italia ai campionati europei di calcio. Siamo in un momento sicuramente delicato, dobbiamo guardare alle prossime settimane con prudenza ma non con paura. Abbiamo fortunatamente i vaccini che, anche qui le evidenze scientifiche ci stanno dicendo che il vaccino funziona. Oltre 30 milioni di concittadini hanno già ricevuto la seconda dose, quindi dobbiamo proseguire ovviamente su questa strada col piano vaccinale. Quanto è importante questa vittoria per il rilancio anche economico e sociale del sud e dell'intero paese? Ma ci sono degli studi economici che dimostrano quanto il nostro PIL nell'arco di qualche ora con questa vittoria è salito dello 0,7-1%. Siamo riusciti a dimostrare come la pratica del nostro sport, come il calcio in Italia, ha un impatto straordinario sotto il profilo della salute, sotto il profilo dell'economia, sotto il profilo del tempo libero, sotto il profilo della socializzazione. Una giornata di festa per Castellaneta che riabbraccia il suo concittadino più illustre. Abbraccia Gabriele che è tornato qui perché noi castellanetani vogliamo tributare questo premio, questo riconoscimento a Gabriele all'interno del Magna Grecia Awards.